Ci troviamo a Pistoia nella zona industriale di Sant'Agostino, oggi inaugurazione del nuovo immobile dell'ampliamento della Conad Nord-Ovest per un totale di 27.000 metri quadri, oltre 400 dipendenti, parola d'ordine e sostenibilità. Un progetto ambizioso che ha come elementi distintivi la centralità delle persone, la sostenibilità, l'innovazione e la valorizzazione del territorio, tutti i motivi che hanno ispirato il progetto con nuovi spazi come il giardino valoriale, un auditorio in 100 posti ed uno spazio aperto e condiviso. Oltre 9.000 metri quadri sono destinati ad uffici, sale e riunioni ed un piano dedicato alla scuola di formazione Crescere Insieme, oltre al progetto Con gli occhi del futuro, un insieme di 77 opere d'arte digitali. Oggi i nostri collaboratori, i nostri talenti, quelli che noi definiamo i nostri talenti, devono avere un posto dove si lavora piacevolmente anche, il posto di lavoro deve diventare anche un posto di incontro, un punto dove si sta bene e si socializza. Abbiamo però puntato anche su un altro pilastro fondante del nostro piano strategico che è la sostenibilità, sostenibilità ambientale, quindi abbiamo creato un giardino delle biodiversità dedicandogli uno spazio importante, sono 5.500 metri quadrati di aria verde, abbiamo realizzato degli impianti fotovoltaici altrettanto importanti per ridurre da una parte i consumi energetici e dall'altra di poter produrre energia green. Quindi spazi inclusivi ma anche che la comunità possa utilizzare. Sì, abbiamo attraverso la nostra scuola di formazione che è posizionata al piano terra della seconda palazzina, abbiamo realizzato delle aule didattiche importanti, un laboratorio di cucina e poi un auditorium da 100 posti che si può utilizzare sia internamente, chiaramente per la formazione, ma che siamo disponibili, anzi a noi farebbe piacere poterlo dedicare anche alla comunità. Noi siamo alla ricerca di persone valide e qui in sede per quello che riguarda la gestione della cooperativa ma anche nei punti di vendita dove abbiamo bisogno di specializzazione in modo particolare, quindi nei reparti delle gastronomie, delle macellerie, delle pescherie. La qualità e le persone alzano sicuramente il nostro livello. Per un'area complessiva di oggi sono 27 mila metri quadrati, di cui 9 mila adibiti ad uffici. Inoltre nei fine settimana del 15, 16 e 17 e del 22, 23 e 24 dicembre, una promozione destinata ai soci di Conad Nord-Ovest delle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia e Siena. Con l'iniziativa Questo Natale ti diamo di più. Abbiamo pensato a questa promozione per venire incontro a tutti i problemi che oggi ci sono nel nostro territorio. Sto parlando di economia, sto parlando di prezzi al pubblico, sto parlando di inflazione. Quindi abbiamo deciso per vicinanza ai nostri clienti di effettuare un'operazione che avrà la durata del fine settimana dal 15 al 17 e del secondo dal 22 al 24 di dicembre, dove praticheremo in tutti i nostri punti di vendita uno sconto del 20% su tutti i prodotti in vendita, comprese le promozioni. Questa è stata una scelta che è venuta dai nostri soci. Conad è una cooperativa di soci, i nostri punti di vendita sono di proprietà dei nostri soci. I nostri soci hanno una caratteristica, quella di vivere all'interno del territorio. Spesso ci sono nati, hanno fatto le scuole e hanno fatto la propria impresa e ci vivono. E quindi nessuno più dei nostri soci comprende in questo momento qual è la difficoltà dei clienti, dei membri della nostra comunità di arrivare alla fine del mese. E quindi i nostri soci hanno pensato e la cooperativa ha aderito con grande entusiasmo di rendere a questa comunità, in tutte le comunità dove noi siamo presenti, un pochettino di quello che la comunità ci ha dato durante quest'anno. Grazie a tutti.